Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Oggi siamo qui all'intervista MAPO con Romina Botticchio. Buonasera. Buonasera a tutti. Prima di andare a intervistare Romina e quindi conoscere un po' la nostra consulente MAPO, mi introduco brevemente per chi non mi conoscesse ancora. Io mi chiamo Alba Romito, sono consulente riferimento in Italia nel settore del riordino, specializzata in decluttering e organizzazione. Decluttering sta per diminuzione della quantità delle proprie cose, proprio spazio ambiente casalingo lavorativo, organizzazione invece sta per ottimizzazione degli spazi. All'inizio sono partita come consulente che insegnava a fare ordine ai miei clienti, successivamente ho deciso di insegnare il mio lavoro come? Fondando l'Accademia MAPO, che è la Master Academy della produttività e dell'organizzazione professionale, punto di incontro tra professionisti e clienti. Appunto ormai è un po' da un anno che c'è l'Accademia, Romina appunto è andata a far parte, si è certificata ed è ufficialmente una delle consulenti che insegna i miei protocolli e collabora appunto alla missione MAPO. Quindi andiamo a conoscerla meglio e diamo la possibilità appunto a Romina di introdursi a tutti noi. Prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Romina Botticchio, ho 39 anni e sono mamma di un bellissimo bambino di 9 anni. Mi sono certificata MAPO da poco tempo, vivo in provincia di Brescia con mio figlio, in una casa super colorata, piena di oggetti, soprattutto giocattoli e peluche. Mi sono sempre appassionata di decluttering e organizzazione della casa, mi sono sempre piaciute, mi hanno sempre affascinato le case che vedevo nelle riviste, super organizzate, pulite, con dei contenitori di design e ho sempre voluto avvicinarmi a questo mondo. Io ho sempre sistemato periodicamente, sistematicamente la mia casa, mi dava un senso di leggerezza, di benessere, però magicamente tornava sempre in disordine e questa cosa non me la sono mai spiegata, fino a quando ho conosciuto Alba. Quindi Alba ha fatto chiarezza e spiega molto bene il perché, dell'effetto boomerang, il perché il disordine ritorna a un certo punto e quindi grazie ad Alba ho finalmente fatto chiarezza su cosa significhi fare ordine. Riguardo appunto un po' la tua esperienza disordinata, visto che comunque chi ci sta ascoltando e guardando, beh, disordine lo sta vivendo sulla sua pelle, perché non racconti un po' quali sono stati, diciamo gli ostacoli o comunque ciò che ti impediva il disordine. Come ti bloccava il disordine nella tua vita, oltre che nella tua casa? Allora, il disordine era a 360 gradi, costellava la mia vita, quindi non solo nelle cose materiali all'interno della mia casa, il disordine materiale però era anche un disordine emotivo, delle emozioni, degli ambienti, delle persone, degli obiettivi che mi ponevo, quindi era un caos, era tutto caotico e quindi quando veramente il disordine ha preso piede a 360 gradi nella mia vita, ho deciso di mettere un punto fermo e appunto ho deciso, mi son detta qua, devo trovare una soluzione, per forza. Ed è lì che sei comparsa tu magicamente in internet. C'è un episodio, diciamo che emblematico, cioè che può in qualche modo aiutarci a capire come tu sei arrivata a dire basta, cioè non so, proprio un momento, un episodio che ci può aiutare un po' a conoscerti meglio, a capire quel momento, quale è stato? Nella, ok, sì, no, diciamo nella quotidianità, quindi io entravo in casa e magari può sembrare banale però avere il tavolo della cucina dove utilizzo anche una parte dove appunto la utilizzo anche per lavorare, quindi vederla sempre in vasa di documenti, penne, qualsiasi cosa e non capire che cosa c'è sul tavolo, questa cosa mi dava molto fastidio, anche perché poi dovevo cercare degli oggetti e perdevo tempo, perdevo tempo, energie per cercare le cose che mi servivano e quindi questa cosa mi creava frustrazione, soprattutto entrare in casa e vedere questo marasma di colori, di cose indefinite, mi creava proprio frustrazione, è proprio una perdita di energia incredibile, soprattutto perdita di energia, mi sentivo sempre molto stanca. Riguardo a quello che hai appena detto, quindi il fatto che fossi frustrata, stancante, tutto era molto stancante, quando tu hai iniziato a fare ordine con i sistemi giusti, hai notato poi degli effettivi cambiamenti, hai notato come tutta questa stanchezza iniziasse finalmente a diminuire e a trasformarsi in energia, magari anche maggior entusiasmo, insomma anche nell'entrare in casa o fare cose. Esattamente, sicuramente tantissima leggerezza, fare ordine ti dà una gioia infinita, quindi vedere tutto in ordine, ben catalogato, classificato, ti dà proprio gioia di vivere. Infatti finito di ordinare armadietti e armadi, mi ricordo che ci passavo davanti, li riaprivo per guardare la bellezza che vedevo all'interno, cosa che in prima invece chiudevo tutto perché non si riusciva a capire cosa ci fosse dentro. Quindi sì, è una sensazione bellissima, proprio dire guarda che bella cosa che ho fatto, cioè mi dà proprio sollievo e anche sapere trovare le cose in un batter d'occhio, cioè veramente è inspiegabile, bisogna provarlo, bisogna proprio provarlo. Provare per credere. Riguarda un po' invece la tua esperienza, hai detto che comunque hai sempre avuto questa passione un po' fissata per la casa, per l'ordine e l'organizzazione. Raccontaci un po' di più riguardo ai sistemi o tecniche che magari hai provato, testato, ma che possiamo appunto definire un po' come soluzioni di tampone, non sono state poi durature o definitive. Esatto, io sistematicamente facevo ordine, quindi magari direttamente andavo nella sezione armadio e quindi da lì iniziavo a scremare, tiravo fuori le magliette, i maglioni, i pantaloni e li risistemavo, li ripiegavo, li rimettevo dentro, li impilavo, però alla fine poi dovevo prendere l'ultimo e quindi ricadeva tutto, cioè dopo un po' di mesi si ritornava appunto a capo, infatti dopo ho capito il perché, perché non andavano impilati, quindi oppure ecco, stiri le cose, le rimetti nell'armadio e le ritrovi stropicciate, non capisci perché tutte queste cose, quindi un sacco di, anche lo stirare è una perda di tempo, perché inutile stirare per poi tirare fuori dall'armadio un vestito super stropicciato perché non si sa come riporlo alla fine, quindi sì, erano queste, cioè io periodicamente facevo la pulizia degli armadi, degli armadietti in cucina, in bagno, tiravo fuori tutto, rimettevo dentro, però alla fine riposizionavo sempre le stesse cose, però non facevo una eliminazione, una cernita ben precisa, andavo più a intuito, quindi secondo delle mie regole, che non sono regole, però ecco, fare ordine non è improvvisarsi, non ci si può improvvisare a fare ordine, non ha senso, cioè non esiste questa cosa. Oggi più che mai lo sai molto bene, perché essendo poi anche, se sei tutta una consulente mappo, oggi appunto tu lo insegni, quindi sai che in effetti ci sono dei metodi, dei protocolli che poi una volta attuati aiutano a ottenere dei risultati che poi perdurano e mantengono anche l'ordine creato, ovviamente, quindi poi sempre in base appunto alla persona, alla casa, ossia di vita. Rispetto un po' a questa tua passione, quindi comunque sempre un po' a un tuo interesse, quello che mi domando, un po' anche magari chi ci ascolta perché pensano, beh, comunque sempre ha avuto un po' la passione, un po' l'interesse, ci sta che oggi sia consulente. Secondo te è un ragionamento che fila a noi come filava anche per te, oppure è stato casuale questa tua decisione? No, è stata casuale, nel senso che appunto io sono arrivata, ho detto basta, devo trovare qualcuno che mi aiuti, devo trovare una soluzione e appunto sei comparsa tu magicamente in internet per caso, ma nulla succede per caso e quindi ho iniziato a seguire una tua live e da lì ho iniziato a mettere in pratica i piccoli consigli che avevi dato e ho visto che mettendoli in pratica si otteneva un risultato ben concreto e quindi da lì mi sono informata e ho deciso di intraprendere il percorso mapo, però io inizialmente ero partita per sistemare le mie cose, la mia casa, appunto basta, dovevo fare ordine, però poi si è aperto un ventaglio di sfumature, di approfondimenti e quindi eccomi qui. Beh, c'è da dire che comunque anche io quando in realtà mi sono approcciata all'ordine, devo dire che quello che poi mi ha motivato a essere super ordinata e a risolvere il mio problema per davvero è stato il fatto che poi l'avrei voluto insegnare, cioè per me è stata una motivazione, quella motivazione fondamentale che mi avrebbe portato a ottenere per forza il risultato, perché altrimenti avrei voluto un po' lasciarlo a metà magari come tante cose inconcluse nella mia vita. Quindi in realtà il fatto che tu abbia detto volevo fare ordine, poi ho fatto mapo, però è grazie a mapo che tu poi approfondisci una tematica che per forza poi ti porta a intraprenderlo e a fare ordine poi per te stessa, ma poi anche essere un esempio per te stessa, per gli altri. Poi questo quindi ti condiziona in meglio perché poi tu diventi il migliore esempio per te stessa e di fatto è ciò che ti sprona poi a dire, sono esempi anche per gli altri. Esatto. A tal proposito di esempi, allora chi ci sta ascoltando appunto vorrà sapere un po' più di te, cioè capire tu come consulente mapo che cosa puoi portare, quali sono i tuoi punti di forza in un rapporto con un cliente nelle tue consulenze mapo, come lo puoi seguire secondo quello che appunto è Romina come persona? Ok, una caratteristica che mi caratterizza è l'empatia, sono molto empatica e quindi riesco a capire l'esigenza del cliente che ho davanti e questo è molto importante in una consulente senza mapo appunto perché il disordine nasconde tutta una serie di problematiche che poi andranno sviscerate pian pianino facendo ordine un passo alla volta e quindi bisogna prima fare una consulenza e capire, capire l'esigenza del cliente, non siamo tutti uguali e quindi bisogna essere empatici e ecco questo qua è il mio punto di forza. Secondo te ci sono altri che nella vita, altre persone, proprio magari nella tua vita, che ti hanno riconosciuto come dei punti anche nei rapporti che magari tu hai creato, che per loro sono aspetti che considerano di valore, che possono essere appunto di aiuto in un rapporto dove magari c'è appunto da averti come guida, da seguire. Sicuramente l'empatia molto emotiva nel senso di essere regato sempre all'empatia e lo sdrammatizzare, cercare di incoraggiare, questo sì, trovare sempre una soluzione, se c'è un problema dobbiamo arrivare alla soluzione, non appunto lamentarsi e continuare a il passato già passato, siamo nel presente, orientiamoci verso il futuro, quindi c'è il problema, va bene, il passato non possiamo cambiarlo, troviamo delle soluzioni per migliorare la situazione. Quindi questo sì, questo è un atteggiamento sicuramente poi mentale che è fondamentale perché poi in effetti la persona appunto disordinata sicuramente in quel momento non può vedere quella luce che vedi tu in fondo al tunnel, quindi serve assolutamente che tu la veda al posto suo perché è così. Secondo te appunto chi ci sta ascoltando, ci sta guardando, comunque ormai da un po' chi sta sentendo, secondo te perché per chi adesso in ascolto dovrebbe uscire da questa intervista che ha capito che fare ordine è fondamentale per la loro vita? Il fare ordine è fondamentale per la vita di qualsiasi persona, dai bambini di tre anni in su, perché ti permette di prendere in mano la tua vita, cioè permette di riscoprirti, di rinascere, quindi grazie al fare ordine in modo corretto, perché ecco bisogna seguire un protocollo preciso, ci sono delle regole precise per arrivare a un risultato definitivo nell'organizzazione e duraturo nel tempo, bisogna seguire appunto questo protocollo specifico, ti permette di rinascere, quindi di eliminare, lasciare andare le cose che non servono più e tenere quelle che invece danno valore alla tua vita, quelle che ti servono, e così vale per le persone, per le emozioni, per gli ambienti, per le opportunità e per gli obiettivi che ti poni. Quindi è tutto un rivoluzionare la propria vita, cioè proprio prenderla in mano a 360 gradi e andare avanti, però sulla giusta via, perché si riesce a capire che cosa è giusto per noi, che cosa ci piace, ci fa piacere, ci dà valore, cosa noi diamo valore, quindi riusciamo a trovare una strada giusta per noi. È interessante perché se tu stai parlando di trovare la strada giusta per noi, fare scelte, quindi imparare a fare delle scelte vantaggiose per noi. E quindi al proposito ti chiedo, deduco che quindi Mappo è stata una di queste scelte che ti ha amato, e quindi che valore ha portato e porta nella tua vita, essere Mappo, anche nella tua visione del futuro? Allora, ha portato un grandissimo valore perché appunto mi ha fatto riscoprire, mi ha fatto veramente vedere un mondo che non vedevo, che era sommerso, nascosto, c'era lì, latente, c'era, ma io non lo vedevo. Quindi è stata come una magia, veramente, facendo ordine, vedi cose che erano lì, però non le riuscivi a vedere, anche delle, veramente delle cose miei interiori, dei miei desideri, dei miei obiettivi, che magari avevo dimenticato. Erano latenti, non erano, cioè erano finite nel dimenticatoio, perché continuavo a pensare a delle cose completamente superflue, che quindi coprivano i miei veri obiettivi, i miei veri desideri, e quindi questa è stata la scoperta più grande. Tu, riguardo alla visione Mappo, che ruolo avrà nel futuro? Cioè, per te Mappo rappresenta quell'opportunità lavorativa che tu vorresti a tempo pieno, è quel lobby, quella seconda professione in parallelo ad una tua attività? Che ruolo ha? Sì, no, per me ha un ruolo di attività principale, quindi a tempo pieno la mia professione, punto, questo è. Quindi se chi, per esempio, ci sta ascoltando, chi adesso ci sta guardando, avesse, no, desiderio di dire eh, ma allora vorrei fare una consulenza con te, Romina, ok? Va benissimo. Tu, esatto, qual è, secondo te perché sarebbe corretto per chi sta ascoltando fare una consulenza, un percorso di consulenza, un percorso di riordino con te, sulla base della tua esperienza, che esperienza tu puoi portare, quindi qual è un po' quell'aggancio che puoi trovare con le persone? L'aggancio sicuramente è il fare chiarezza su cosa vuol dire fare ordine, perché c'è molta, molta confusione su questo, su questo aspetto, quindi già partendo da questa, da questo punto che è la base, è fondamentale, chiarire cosa vuol dire fare ordine, poi iniziare a piccoli passi, perché ovviamente non si può, cioè in un'ora non si rivoluziona tutta una casa, tutta la propria vita, ci vuole, è impegnativo, è un percorso impegnativo, non è un percorso leggero, che si prende sotto gamba, cioè bisogna impegnarsi, bisogna impegnarsi, un passo alla volta, facendo ordine si arriva poi a dei miglioramenti, dei cambiamenti, c'è una teoria che viene messa in pratica con delle azioni che portano veramente dei risultati concreti, questa è la cosa bella, che non rimane teorico, quando si passa all'azione poi si vedono anche i risultati, su tutta la nostra vita, perché appunto la casa è comunque lo specchio della nostra vita, del nostro io, e quindi facendo ordine mettiamo a posto anche la nostra vita, che è veramente la cosa più importante. In effetti poi questo appunto come un effetto farfalla, un po' a catena, si va poi ad espandere su altri aspetti. Tu con la tua esperienza personale, qual è stato un po' quel cambiamento che tu hai sentito più di tutti una volta che l'ordine hai dato parte nella tua vita? Sicuramente a livello lavorativo e a livello caratteriale, mi sono aperta molto di più, ho iniziato a concentrarmi veramente sui miei obiettivi, sulle cose che io desidero, sulle cose che io amo, ho iniziato a dare veramente più importanza a quello che conta per me, e ho veramente eliminato, ho lasciato da parte tutto ciò che non ha valore, che non porta valore nella mia vita, per la mia crescita personale, nella mia vita lavorativa, come figlio, in qualsiasi aspetto, in qualsiasi ambito. Quello che tu racconti, diciamo, concretamente, no? Se tu potessi fare degli esempi, perché? Perché sarebbe bello che chi ti ascolta possa un po' capire tu un po' che persona sei, perché, per esempio, io sono, non so, quello che mostravo, il fatto di dare l'energia e la carica in un cambiamento, anche, no? Di rivoluzione, in base a delle scelte che avevo fatto di cambiamento. Allora, ci sono delle scelte, dei cambiamenti che tu hai fatto e che possono essere un po' di aiuto a chi ti ascolta a sentire, a vedere in te quella guida. Ok, sicuramente i cambiamenti più importanti che ho fatto sono state proprio la, diciamo così, lasciare da parte certi giudizi, quindi certe persone, legate a persone che comunque influivano negativamente sulla mia vita e quindi non mi, erano un ostacolo, non mi permettevano di andare avanti, erano comunque dei ladri di tempo, mi facevano perdere un sacco di tempo per niente e quindi io mi concentravo magari ad aiutare loro a ascoltare quello che dicevano e alla fine lasciavo da parte completamente la mia vita. Quindi questa è la cosa importante e principale, cioè fondamentale per me, che veramente mi ha aiutato a riprendere in mano la mia vita, perché prima è come se vivessi per gli altri, nel senso, ascoltando le esigenze degli altri, non ascoltavo me. Quando ho deciso di mettermi al primo posto mi sono scelta e quindi di conseguenza si fanno delle scelte poi di valore, perché ecco, la persona più importante sono io, devo stare bene io, poi vengono tutti gli altri, altrimenti non posso aiutare nessuno. E quindi secondo me la rivoluzione più importante nella mia vita è stato proprio il dire, ok, adesso mi fermo, scelgo me, do importanza a me e ascolto la mia voce interiore, ascolto me, ascolto quello che fa bene a me, non quello che viene dall'esterno. E questa cosa io l'ho trovata grazie al fare ordine. In effetti io diciamo che quello che abbiamo in comune, quello che poi chi fa questo percorso, chi sceglie di fare ordine ha in comune tra di noi, questa è un po' la somiglianza, è il fatto che vediamo nell'ordine e che poi effettivamente risulta essere la chiave, il mezzo per noi per fare dei cambiamenti, per migliorare interiormente, per fare un percorso che con altri mezzi non sarebbe stato mai così efficace. si parla proprio anche di altri metodi, potrebbe essere anche la semplice e pura crescita personale, eventi motivazionali, ecco, intendo in quel senso che uno può aver fatto esperienza, però poi quella profondità, quel cambiamento, quel vero passo, per me per esempio è avvenuto facendo ordine, cioè radicale. Riguardo appunto a chi ci sta ascoltando, sarebbe bello, ok, visto che siamo in conclusione dell'intervista, che tu possa lanciare un po' un messaggio, un messaggio a chi ci ascolta, a chi ci sta guardando, che può essere una tua considerazione, una tua, un incoraggiamento, potrebbe essere, un so, dei ringraziamenti, una tua, diciamo, perla, così da, diciamo, conoscerti un po' di più rispetto a come tu magari senti anche, no? Sì, allora dico che fare ordine è un mondo tutto da scoprire, è veramente un mondo da scoprire, e ti apre un mondo che neanche ti aspetti. Questa cosa è incredibile, indescrivibile, bisogna, bisogna proprio provarla, cioè non ci si può improvvisare, e la cosa che mi è piaciuto molto, ecco, rispetto magari a dei corsi di crescita personale, che ho fatto anche nella mia vita, è stato proprio il fatto che c'è una teoria, e poi la si mette in pratica, e quindi poi porta dei risultati, quindi c'è anche un'azione, mentre tutti i corsi che ho fatto, senza nulla togliere, però erano molto pensiero, molta filosofia, molta teoria, e poi rimanevano lì, perché metterli in pratica era comunque difficile, invece qua c'è proprio il passaggio, che ti permette di arrivare veramente al risultato che tu vuoi, arrivare al cambiamento, tu lo metti in atto, cioè tu metti in atto quella pratica, quella teoria, la metti in atto nella pratica, nella vita quotidiana, e hai un risultato, c'è una cosa fantastica, questa è una cosa veramente stupenda, e questa è la cosa, la vera differenza che ho trovato, con tutti i corsi che ho fatto di crescita personale, e che mi ha fatto fare quel passo in più, quel livello in più, ed è veramente da provare. Senti, quanta voglia hai da un accento, di aiutare più persone possibili, a riordinarsi, a fare questi cambiamenti fuori e dentro? Mille, perché è veramente un'esperienza unica, è veramente unica. Si sente, comunque davvero, da questa breve intervista, poi ovviamente, chi vorrà, potrà iniziare anche dei percorsi di consulenza, anche con te, si percepisce comunque, proprio come tu, hai una, ci tieni, ok, a questa esperienza che hai fatto, e ci credi, e questo è, che quello è stato per me, ovviamente, lo è per me tutti i giorni, però, questo accade, diciamolo, solo, se tu però sperimenti, parti da ex disordinata, lo vivi sulla tua pelle, perché altrimenti, non può essere, no, un, lo studio, lo insegno, questo è importante, in effetti, no, secondo te, quali sono un po' quegli aspetti che, una consulente mapo, deve avere, quali sono un po' quelle caratteristiche che ti rendono una mapo, unica, cioè, speciale, è la pratica, nel senso, è l'aver fatto, l'aver messo in pratica, prima su di sé, quindi averlo sperimentato, perché se non lo, se non lo sperimenti su di te, la teoria la capisci, però la puoi anche ripetere a memoria, non è un problema, però non passi niente, non, cioè, non passi niente alla persona che ti sta davanti, e quindi una volta che tu l'hai veramente sperimentato, cioè, lo provi, cioè, guidando la persona che hai davanti, sai già dove arriverà, e quindi tu hai già quella luce negli occhi, che lei ancora non vede, però vede in te, al momento non capisce, perché tu sei così contenta, però tu la stai guidando, e sai che la stai portando lì, però questa cosa prima la devi sperimentare, bisogna sperimentarla su di noi, sulle nostre cose, altrimenti non avrebbe senso, sarebbe come leggere un libro, e ripetere quello che c'è scritto, però non ha senso, bisogna proprio mettere in pratica le cose, cioè, la pratica batte la teoria, in tutto, quindi, siamo d'accordo, siamo d'accordo, infatti, questo è proprio, come team MAPO, cioè, bisogna avere, questa è la filosofia MAPO, che c'è la base, in effetti, quindi, è un motivo per il quale, infatti, è qua oggi, Romina. Allora, quindi, adesso noi, quello che poi abbiamo fatto in questa intervista, è stato appunto, farti conoscere, raccontare un po' della tua storia, rispetto al tuo pre-MAPO, quindi, il tuo disordine, poi, il tuo passaggio al faccio ordine, conosco Alba, divento MAPO, e adesso appunto, il tuo cammino come consulente, ti abbiamo conosciuto un po' nei tuoi punti di forza, un po' la tua storia, comunque, anche da come parli, si capisce un po' anche il tuo carattere, quanto ci tieni, quanto credi in questo progetto, ora, non resta che, visto che hai motivato molto, comunque, anche chi è qui con noi, non possiamo fare altro che, quindi, ora, augurare, no, a tutti coloro, che finiranno questa intervista, insieme a noi, un buon riordine, soprattutto, gioia infinita. Gioia infinita a tutti, quindi, grazie Romina, e grazie a tutti che siete stati qui con noi, un abbraccio. Grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao.